Hola a todos, io sono Davide e oggi torneremo a parlare di come trovare dei fornitori scusate subito per la qualità del video ma sono dal telefonino spero che avete passato un buon anno e che siete già carichi per iniziare questo 2023 la grande e per iniziare la grande io cosa intendo? incrementare i fatturati è l'unica cosa che ci interessa penso io quest'anno non ho neanche stilato una lista di buoni propositi da fare nel 2023 perché tanto succede sempre qualcosa che non me li fa portare a termine soprattutto quelli della dieta, si vede e quindi visto che ci sono sempre questi imprevisti ho deciso di concentrarmi mese per mese ogni mese riguardo gli obiettivi, ne metto dei nuovi o li tolgo vedendo come va il mese precedente vedo un po' cosa fare anche perché avendo aperto una nuova attività vedrò strada facendo cosa andremo a fare per vostra fortuna o sfortuna dipende dai punti di vista cercherò anche di essere più presente qua su youtube però metti un mi piace e iscriviti al canale se vuoi vedere altri video su ebay amazon, shopify, dropshipping in generale e altri metodi per guadagnare online qui in alto da qualche parte vi pinno il video che avevo già fatto sui fornitori così andiamo a vedere se in questo 2023 le cose sono cambiate se ci sono degli aggiornamenti e anche se io io stesso ho cambiato idea su qualcosa che magari prima usavo un fornitore adesso non uso più o viceversa e vi anticipo già che da qualche parte del video ci sarà un bonus però non voglio spoilerare troppo ancora quindi guardate il video dall'inizio alla fine ragazzi e soprattutto mettete il mi piace vi anticipo già ho cambiato idea su alibaba prima come vi avevo detto non utilizzavo molto perché soprattutto con le spedizioni era un po' un casino perché bisognava sempre chiedere al fornitore se poteva spedire, quanto costava spedire poi mettevano un prezzo della spedizione e ne arrivava un altro ed era davvero un casino io ho sempre preferito i siti come anche Aliexpress siti dove c'è già il mio prezzo, la mia spedizione non devo stare lì a fare tante email e tanta perdita di tempo con i fornitori però anche su questo punto di vista è un po' cambiato opinione però visto che l'alternativa che utilizzavo io è diventata carissima mi sono messo lì e ho deciso di utilizzare Alibaba e mi ci trovo bene, discretamente bene ovvio, per voi che siete in Italia o perché in Francia, Germania, UK, America cioè America, Stati Uniti d'America Alibaba è molto più semplice che nei paesi dove vivo io perché le spedizioni sono sempre un casino qua quindi molte volte non spediscono la spedizione è troppo alta dicono che spediscono, poi non è vero, non spediscono però per voi non c'è nessun problema quindi per voi Alibaba, se siete in Italia, è perfetto l'alternativa che io utilizzavo era DHgate o DHgate, chiamiamolo come vogliamo chiamiamola l'italiana, DHgate non lo so come si pronuncia l'ho abbandonato perché? perché dalla pandemia sono aumentati un casino ma davvero un casino i prezzi di sopra sono aumentati tantissimo le spedizioni sono aumentate tantissimo i prezzi se tipo, non lo so, una cosa su Alibaba la trovi un euro lì adesso la trovi a 5-7 euro più la spedizione prima molto spesso c'era anche la spedizione gratuita pure a Malta dove stavo io però è peggiorato è peggiorato da questo punto di vista che è fondamentale per noi comunque trovare degli ottimi prezzi però ve lo consiglio ancora se volete la comunità perché non ho guardato le spedizioni in Italia magari lì le spedizioni sono gratuite quindi i prezzi sono ancora concorrenziali con Alibaba poi è molto più comodo come comodità secondo me DHgate è il migliore di questi siti cioè tra Alibaba e DHgate solo di comodità poi c'è iSource che è quello inglese comunque ragazzi troverete tutti i link sotto in descrizione così almeno se volete darci un occhio e questo lo scorso anno l'ho utilizzato facendo l'abbonamento la prima volta che lo facevo è tutta un'altra cosa rispetto al piano gratuito perché puoi vedere tutti i fornitori ce ne sono davvero una valanga e ne ho trovato un bel po' di fornitori ne ho trovato un bel po' però non l'ho ancora acquistato da nessuno perché gli imprevisti poco tempo a disposizione però ho trovato un nuovo sito di dropshipping tipo CJ Dropshipping si chiama mi pare Supa Dropshipping se mi ricordo vi metto il link in descrizione o se chiedetemelo nei commenti così ve lo linko ed è un sito affidabile perché mi ha sempre spedito ho fatto anche magazzino con loro anzi c'è ancora delle cose nel loro magazzino che non sono riuscito a vendere come le bandierine dell'Ucraina avevo comprato una valanga e li ho ancora lì e vabbè gli rischi del business e Supa Dropshipping sono molto amichevoli i prezzi di molte cose secondo me sono anche migliori di CJ Dropshipping poi ti aiutano perché sono piccolini erano nati da poco quando li ho trovati io e li ho trovati su eSource e ce ne erano molti molti altri di siti simili ovviamente penso che con una piccola ricerca si possono trovare anche su Google anche senza cercare su eSource spero alla comodità di averli tutta la lista lì basta scrivere mi pare Dropshipping mettere paese Cina o qualcosa del genere e viene tutta la lista di tutti i prodotti puoi anche cercare in base alle categorie è molto comodo però dovete avere molto tempo non lo consiglio a chi come me ha poco tempo a disposizione perché deve fare mille altre cose però lo consiglio a chi sta iniziando sì lo consiglio perché almeno ne vede un po' anche se a chi inizia consiglio sempre per il drop cd dropshipping e per acquistare Alibaba secondo me per fare magazzino benissimo Alibaba non mi complicherei la vita all'inizio anche con soluzioni migliori però all'inizio state sulle cose più semplici io vi consiglio questo quindi la tecnica che si usa è sempre praticamente la stessa cercare su Google la nicchia di mercato che volete andare a battere e puoi scrivere il fornitore esempio grossista dropshipping e scrivendo poi in quale paese lo volete non so magari dropshipping from China o però così magari mi trova molte altre cose magari dropshipping from Europe from Spain from UK vedete voi comunque ci siamo capiti cosa c'è da fare siamo nel 2023 quindi sono cose abbastanza semplici da fare però ragazzi state attenti prima di inviare i vostri soldi soprattutto se siete all'inizio che perdere dei soldi è un trauma è davvero un trauma sapete benissimo come internet forse oramai lo sapete anche più di me che siete la maggior parte giù incendi che si può sempre trovare qualche truffatore nascosto soprattutto se cercate merce a prezzi troppo bassi magari playstation 5 trovate uno non lo so dall'Honduras che ve ne vende a 100 euro ragazzi state attenti che molto probabilmente non vi arriva niente e soprattutto anche i brand famosi tipo non andate a cercare Nike dal fornitore su Alibaba perché sicuramente ve li invia ve li invia però saranno non originali avrete problemi alla Dogana oppure Gucci comunque ci siamo capiti questi brand famosi lasciate assolutamente perdere ragazzi soprattutto se siete agli inizi e non sapete come muovervi perché ci sono due possibilità la prima è che la merce sia contraffatta vi può arrivare nessun problema la vendete potete non avere nessun problema però potreste avere problema con la Dogana problema con i clienti problemi seri che mi possano arrivare delle letterine delle letterine da presentarvi in tribunale sia per pagare sia per pagare per quello che avete fatto perché avete venduto merce a non ordinare o comunque roba anche più grave e la seconda cosa trovarvi truffati perché uno che vi vende le Gucci magari a 20 euro molto probabilmente vi sta truffando non vi invia niente quindi per questo genere di merce affidatevi solo a ditte seri solamente a loro va bene ragazzi penso che per il video è tutto però c'è ancora una cosa se volete invece un sito di dropshipping dall'Europa continuate a seguire il canale perché il mio progetto di offrire io stesso merci in dropshipping dall'Europa in pronta consegna è ancora vivo e vegeto questo progetto ce l'avevo già dall'anno scorso però non è un progetto facile da realizzare ragazzi come potete immaginare quindi è ancora lì è ancora in fase embrionale o come si dice però prima o poi è quello che voglio fare però già nel 2023 questo è un obiettivo anche se non me lo sono no me lo sono scritto forse non lo so comunque questo è un obiettivo però c'è ancora da capire come farlo funzionare per farlo funzionare bene ed eccoci il bonus tutto quello che stavate aspettando eh qual è il bonus? gli agenti ragazzi ormai ne sentite parlare ovunque degli agenti ma chi sono veramente vediamo un po' allora gli agenti sono praticamente quelle persone quei cinesi che vanno da tramite vanno a prendere la roba in cina ma poi vi farò anzi lasciamo stare vi farò magari poi un video dedicato però vediamo se ve lo faccio un video dedicato perché sta qua il bonus comunque c'è da fidarsi sì ma non di tutti ragazzi non trovate il primo che passa per la strada che scrivete agente su google poi tac che gli rifiliamo il nostro store o qualcosa lasciate stare prima che vi trovate un casino perché molti ci mettono tantissimo a spedire è capitato anche a me molte volte prima di trovare quelli giusti ci va un po' di tempo quindi state attenti anche su questo ragazzi se il video arriverà a 200 like lo so è impossibile forse non arriverà neanche a 200 views però se arriverà a 200 like quindi metti mi piace vi farò un video dove vi spiegherò qualcosa sugli agenti magari vi spiego anche come trovarli e se sono di luna buona vi darò il contatto della mia gente promesso è promesso se sono di luna buona magari potete arrivare anche a 10.000 like ma non vi lascio niente non è promesso niente vediamo se vi do la mia ovviamente è un agente fidato non vi darei un agente no ragazzi scherzavo ci sono altri metodi non ci sono solo quelli di prima allora affidarsi ai portali di ricerca dei fornitori tipo un motore di ricerca come su google che troviamo tutto anche sui portali dei fornitori dei grossisti mettiamo non lo so portachiavi e troviamo tutti i fornitori dei portachiavi o comunque macro categorie e ce ne sono parecchi anche di questi sia italiani che stranieri ce ne sono anche italiani io sinceramente non cerco molto in italia perché prezzi troppo alti e non mi piace come lavorano in italia eccetera 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 ma comunque è molto semplice trovarli guardate io prima ho fatto una piccola cerca ho scritto su google portale grossisti italiani ed è il primo che mi è arrivato ho già visto c'erano le categorie c'era da iscriversi sicuramente dovete avere partita IVA e tutto però lì mi mettono in contatto con i fornitori molto probabilmente sono gratuiti non lo so non ho ancora guardato bene però molto probabilmente questi italiani sono gratuiti perché pagherà il fornitore pagherà o una tantum per iscriversi al portale o a transazione come succede su ebay quindi ragazzi sbizzarritevi nelle vostre ricerche perché davvero lì fuori c'è un mondo da scoprire c'è tantissima roba che potete trovare che è molto utile però state sempre attenti per le cose che vi ho detto prima e siamo giunti alla fine anche di questo video ragazzi come sempre lasciate un bel mi piace che aiuta moltissimo l'algoritmo di youtube iscriviti al canale se non l'è ancora fatto se vuoi vedere altri video sul dropshipping su ebay e molte altre cose e lascia un commentino qua sotto soprattutto ragazzi dai così almeno aiuta sempre l'algoritmo di youtube e facciamo arrivare questo video ai 200 like cosa impossibile però proviamoci e se lascia un commento anche con i tuoi dubbi domande proverò nei limiti del possibile a risponderti e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi